Graziani, prendere un gol al 95esimo sarà un po' di beffa vedendo anche quello che avevate prodotto nel corso della prima frazione di gioco. Come l'avete presa questa sconfitta? Bene, no di certo, perché quando prendi un gol così alla fine, ma anche quando prendi un gol dopo un minuto che l'hai fatto, vuol dire che ci manca qualcosa. Ci manca la cattiveria, ci manca il sangue, quello che aveva il Cattolico. Noi siamo andati in campo, abbiamo fatto la nostra partita, però quando c'è da stringere succede che perdiamo di attenzione. Ci stia lavorando, però succede sempre così, quindi dobbiamo farci un esame di coscienza. Ballardini, il suo gol non ha portato bene. Oggi però ha fatto anche una partita un pochino sotto tono rispetto alle altre volte. Quando in tanti si fanno delle gare sotto tono poi il risultato è questo. Quindi noi dobbiamo in questo momento star zitti, lavorare e sicuramente fare qualcosa in più, perché si vede che quello che facciamo non basta. Avete fatto tanto gioco, tanto gioco, però non avete concluso. Se si perde così alla fine il gioco che si fa, se si crea poco, è poco importante. Comunque in bocca al lupo. Crepi, grazie. È amaro questa sconfitta. Abbastanza, grazie. Mister Galli, all'esordio una vittoria importante sotto l'aspetto psicologico, eccetera, in attesa di quello che verrà. Cioè domenica c'è Rimini, un altro derby e Rimini oggi ha perso. Oggi ci godiamo questi tre punti, anche per i ragazzi che venivano da una situazione, tanto lo sappiamo tutti, non bella. Però ho fatto una prova di carattere, sono stato contento e domenica, domenica non so lei che ci sono io, cioè voi date per scontato. Come, sarai il secondo comunque? Ah, vabbè, quello se c'è da dare il supporto io lo do sempre, però... Ecco, l'importante è quello, tu devi essere sempre pronto. Ebbè, è logico. Più psicologicamente, però... Il gioco nel primo tempo ha latitato un po', cioè il Forlì è stato superiore. Un po' come mercoledì scorso, con la Bagnolese, cattolica superiore, poi però ha preso il gol. Ma era normale, cioè me lo aspettavo perché in due giorni fai fatica che i ragazzi si liberino di testa. Era normale, siamo stati bravi a stare lì a soffrire, poi nel secondo tempo siamo cresciuti, eravamo partiti bene e purtroppo abbiamo preso gol. Poi, però dopo ancora, cioè, sono stati bravissimi a recuperare e l'abbiamo ribaltata alla fine, ecco. Erano consapevoli che poteva, ci si poteva mettere male, ma però, cioè, di non mollare mai. Infatti sono stati bravissimi, gli faccio i complimenti. Sì, sì, infatti nel secondo tempo il Forlì è calato un attimo dopo che ha fatto il gol e il cattolica ha trovato subito la rete del pareggio importante sotto l'aspetto psicologico, però ha continuato a giocare, cosa che non ha fatto nel primo tempo. A quello non lo so, cioè, noi siamo cresciuti, abbiamo stato un attimino un po' il baricentro e magari nel primo tempo siamo stati più, diciamo, in attesa. Forse magari, io non gli avevo detto di aspettarli proprio lì, però, siete che magari loro inconsciamente, sai, poi quando vieni da un periodo, un po' di paura si subentra, però nel secondo tempo sono stati bravissimi. L'introducente, il vecchietto, ma sembri un ragazzino, hai fatto un gol da altri tempi. Sì, sì, dai, è stato bello e l'importante oggi era vincere, poi è normale che fare gol fa piacere, però l'importante, come ho detto, era il risultato, è portare a casa i tre punti, oltre al gioco, alla qualsiasi cosa, estemperare, diciamo, gli animi e portare entusiasmo. No, ma infatti il Cattolica è stato increscendo, nel primo tempo non è che ha giocato molto bene, come gioco è stato superiore il Forlì, come palle giocate, eccetera. Però avete avuto la reazione, come avete preso il gol, siete riusciti subito a parigiare e poi dopo a prendere in mano la partita. Sì, questo fa sì che al momento mentalmente siamo un po' provati, no? Perché diciamo che gli episodi ci sono andati quasi sempre sfavorevoli, quindi non è facile, dal di dentro è difficile, dal di fuori sembra più facile parlare, ma dentro vi è sicuro che è veramente difficile controbattere gli episodi. Infatti quando abbiamo fatto l'1-1 si è visto, diciamo, anche un'altra squadra l'avete visto anche voi, sono quelle piccole cose che servono a tirar su il morale e a creare entusiasmo che sono i punti.